Ecco l'Ave Maria dell'acciottolato che porta alla chiesetta di Lornico. I fiori variopinti ci accolgono verso la chiesetta. Un tavolo e la fontanella, uno sguardo verso la valle, entriamo in chiesa attraverso il porticato. Ecco l'altare. Il crocifisso dipinto da Irene. Ecco l'altarino e gli affreschi eseguiti nel 2011. Il Santa Chiara, il Saint Cherbel e la Madonna di Lezzeno. L'altarino già pronto per la messa. Il Leggio. Lo Scrum del Celebrante. La chiesa è pronta per l'inaugurazione. Adoro.